Nella prossima puntata di Endless Love, una rivelazione sconvolgente travolgerà tutti. Durante una cena che sembrava destinata a scorrere tranquilla, Tariq irrompe disperato e visibilmente ubriaco, annunciando di essere sull'orlo della rovina, schiacciato dagli usurai. Ma il vero colpo di scena arriva quando Tariq svela la sua convinzione. Tutta la sua crisi sarebbe parte di un piano orchestrato da Ayan per umiliare Kemal, spingendolo a implorare aiuto per il fratello. Ayan attende in vano l'arrivo di Tariq. Nian arriva all'ospedale con Deniz febbricitante, accompagnata da Kemal. Quando il dottore che la visita dice che potrebbe essere necessaria una trasfusione da uno dei genitori, il gruppo sanguigno di Nian non corrisponde. Kemal, che crede di essere il padre di Deniz, chiede spiegazioni e il dottore, mentendo, dice che il gruppo della bambina è ORH negativo. Sopraggiunge Emir, che di fronte al favore fatto a Nian e la bambina, ringrazia Kemal nonostante i dissapori e lo congeda. Deluso e sconcertato, Kemal va da Asu e fissa con lei la data del matrimonio. Più tardi, Nian va su tutte le furie scoprendo che Emir, complice il medico, ha provocato artificialmente la febbre alla bambina per poter far sapere in questo modo a Kemal che non ne era il padre. Nian racconta a Deniz una favola dove parla di sé e dei suoi piani. Kemal mette sotto torchio Satki, mentre fa a gettare il calcestruzzo di pessima qualità, sabotando i lavori del suo gruppo. Nian incontra Kemal nel cantiere della scuola e scopre che l'uomo ha deciso di far dedicare a Ozan il dormitorio. Nian si infuria e lo aggredisce. Non sarà un cartello in onore di Ozan a lavare le colpe che lei, Gili, attribuisce. Ma Kemal, determinato a ricomporre la vera dinamica che ha portato Ozan alla morte, incarica la ex guardia carceraria, Omer, suo prigioniero, di procurargli la registrazione della telefonata fatta da Ozan prima del suicidio. Satki, a sua volta nel covo, prima implora Kemal di liberarlo dalla prigionia e poi corre da Emir a spifferargli le intenzioni di Kemal. Emir così lo incarica di anticipare le mosse del nemico, procurando a lui quella registrazione. Kemal poi arriva senza annunciarsi a casa di Tufan e si fa a dare le foto che ritraggono il bacio tra Emir e Zeynep. Hakan, preoccupato per suo fratello Safak, chiede a Emir di licenziarlo. Ma l'uomo si rifiuta. Ha salvato la vita del ragazzo pagando per la sua operazione chirurgica e ora riscuote il suo credito. Nihan riceve una busta contenente le foto che erano state inviate a Ozan in prigione. Così scopre del tradimento di Emir con Zeynep ed è sempre più risoluta nella sua decisione di vendicarsi. Zeynep continua a cercare la registrazione della telefonata che Ozan ha fatto dal carcere, ma per ora senza risultati. Tariq comunica a Banu che dovranno trasferirsi dai suoi genitori. Dopo un attimo di sconcerto, Banu gli promette che non lo abbandonerà. Tufan cerca di riconquistare la fiducia di Asu, ma lei non vuole più avere a che fare con lui. Emir scopre che il calcestruzzo sparito è stato donato da Kemal per la costruzione del dormitorio maschile della scuola d'arte. Zeynep incontra Emir perché vuole dargli un regalo per il suo compleanno, che sarà il giorno dopo. Si tratta di una chiave con cui Zeynep Gli augura di diventare un rifugio per sua figlia. Emir la tratta freddamente e, in maniera allusiva, le dice che avrebbe preferito un altro genere di regalo. Se vorresti il continuo della storia scrivi sì nei commenti. Grazie a tutti.